La Termoli che mi piace è una iniziativa dell'assessorato al turismo che invita residenti e turisti a raccontare la città con uno scatto e partecipare alla prima edizione del contest fotografico promosso dall'amministrazione comunale. Due le categorie del contest valido fino al 31 agosto prossimo resident e tourist. La prima è riservata agli appassionati di fotografia del posto e la seconda ai turisti fotografi per passione. La Termoli che mi piace è stata realizzata in collaborazione con l'associazione dei commercianti del luogo che l'assessore ha incontrato nei giorni scorsi per poter organizzare al meglio il contest. Nei negozi sarà possibile trovare il regolamento con la scheda di adesione oltre che negli uffici comunali. La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti senza limiti di età. Gli interessati potranno inviare massimo tre immagini all'indirizzo mail la termoli che mi piace chiocciolacomune.termoli.cb.it Sarà quindi la fase della votazione popolare che avverrà sulla pagina social della Termoli che mi piace. È una pagina creata appositamente per il contest e al termine del periodo della consegna degli elaborati grafici che è previsto per il 31 agosto 2021. Verrà poi nominata successivamente una giuria che in base a determinati criteri si dovrà pronunciare e quindi verranno attribuite a tutti gli elaborati dei voti da parte di questa giuria. La sommatoria dei due poi creerà, disporrà quella che sarà la gradatoria finale. Ai vincitori che abitano nel luogo sono previsti dei buoni spesa presso le attività commerciali convenzionate per un valore a partire da 100 euro fino a 250 euro mentre ai turisti un weekend in un B&B con cena per due persone ed un aperitivo. Un ringraziamento lo devo necessariamente alle tante attività che hanno accettato di buon grado questa iniziativa e soprattutto che hanno messo a disposizione i vari premi per le due categorie. La durata del contest è dal 1 luglio al 31 agosto.